Sarà su due piani il nuovo polo museale di Pistoia previsto all'ex convento di San Lorenzo che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, diverrà la nuova casa del Museo Marino Marini. La porzione dell'edificio individuata è quella che guarda sulla piazza dove sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione. Ne ha parlato il sindaco Alessandro Tomasi a margine del sopralluogo condotto sul cantiere. I lavori negli ambienti dell'ex convento sono infatti realizzati tenendo conto di tutte le predisposizioni necessarie per uno spazio museale, così come previsto per la chiesa di Sant'Anzano, anch'essa destinata ad essere luogo espositivo. L'antincendio, la predisposizione tecnico-strutturale è un museo, sono due grandi sale che complessivamente sono più grandi di Palazzo del Tao perché sono circa oltre 500 metri quadri e hanno quella predisposizione. Poi come si mettano le opere dentro deve essere il commissario e ci vuole naturalmente uno staff tecnico soprattutto della fondazione. Sul fronte del confronto con il commissario della fondazione Marini, il prefetto Raffaele Ruberto, il primo cittadino ha spiegato poi che l'amministrazione sta con lui discutendo su tutti gli aspetti della vicenda. Dal Palazzo del Tao fino a questi luoghi lo facciamo serenamente, convinti che il risultato finale sarà una valorizzazione ulteriore dell'opera del maestro. Naturalmente magari tra qualche mese potremo tornare e vedrete ancora più definiti i locali che vorremmo dedicare a Marino Marini e ne vedrete, ne possiamo godere della bellezza. L'ex museo Marini è una destinazione quale? Sede della fondazione a Pistoia? Secondo me sì perché è prevista dallo statuto che rimanga lì, che nasce e che rimanga lì la sede della fondazione. Una sede di una fondazione speriamo attiva che vuol dire anche ospitare dentro studenti, ricerca, piccoli laboratori.